Da meno di due mesi la latitanza di Michelangelo Raso, ritenuto dagli inquirenti organico al clan Pesce Bellocco, è stato catturato a Rosarno in un blitz dei Carabinieri e deve scontare una condanna. Ha otto anni. Antonio Liotta. Era irreperibile da febbraio Michelangelo Raso. Prima la fuga in Francia, poi il rientro in Calabria. Aveva bisogno di denaro il 42enne per continuare la latitanza e così si era mosso per vendere delle proprietà. Ma i Carabinieri hanno fatto terra bruciata intorno, è stato arrestato a Rosarno mentre stava tornando a casa. Lo hanno scovato tenendo il fiato sul collo per giorni a familiari e fiancheggiatori controlli serrati che di fatto lo hanno chiuso in un vicolo cieco. Raso deve scontare otto anni e sei mesi per armi, rapina e ricettazione. Una condanna diventata definitiva, da qui l'ordine di cattura della procura generale di Reggio Calabria. Nel 2017 fu formato in un blitz della direzione distrettore antimafia regina e della polizia contro la cosca Pesce Bellocco. Organico al clan, secondo gli inquirenti, ne avrebbe agevolato gli interessi nel settore del trasporto su gomma, facendo da prestanome e schermando il patrimonio dell'Andrina da sequestri e confische. È stato accusato anche di aver avuto un ruolo nella latitanza di Marcello Pesce, poi arrestato nel 2016 uno degli uomini che avrebbe partecipato agli spostamenti del presunto boss. Adesso il blitz che ha messo la parola fine alla sua di fuga, durata meno di due mesi. La cattura di Michelangelo Raso conferma l'impegno e la capacità investigativa delle nostre forze di polizia, così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi commentando l'operazione dei carabinieri. Soddisfazione e apprezzamento per l'attività di contrasto all'illegalità portata avanti dall'arma dei carabinieri da tutte le forze di polizia nei territori dove più forte è invasiva la criminalità organizzata. Ha proseguito il titolare del Biminale, evidenziando che questi interventi rafforzano la presenza dello Stato in contesti difficili, fornendo una risposta concreta alle comunità locali. Grazie. Grazie.